anche oggi siamo qua in zona san simone abbiamo provato questa nuova traccia che scende dal forcella rossa cari amici dal forcella rossa dovete prendere il tunnel che passa in una grotta trincee della prima guerra mondiale bunker della seconda e poi sbucate fuori qua esatto questa è la nostra truppa di oggi come possiamo vedere sempre attardati e alle prese con degli attrezzi sbagliati chi ha gli sci muniti un po' tagli sciisti